mamma! si dimmi figlia rana ho fame ah vai a mangiare qualche insetto allora? ma no io voglio una frittata ma che frittata? le rane non mangiano la frittata devi mangiarti una bella mosca succosa ma che schifo è buona ma tu ti mangi le mosche scusa? certo sempre a colazione ma che schifo? no io voglio una frittata va bene ti faccio una bella frittata di uova di cavallo ma che schifo? il mio cavallo no una rana a cavallo va bene ho capito io entro in casa allora aspetta che apro la porta no non si apre la porta adesso faccio io finalmente l'ho aperta si apre così c'è questa tettoia che è troppo bassa questa la sistemo io a capocciate ecco sistemata ho visto come si fanno i lavori di casa? ah quanto è bella spaziosa la nostra casa guardate qui ragazzi vi facciamo fare il tour della casa allora si entra da qui vedete c'è un bellissimo ingresso molto spazioso lo vedete? mi vedete? eccomi qua non c'è nemmeno niente eh la dobbiamo ancora arredare allora vedete qui metteremo la cucina qui la camera da letto e qui il salotto visto c'è spazio per tutto veramente enorme cosa fai lì su? guarda dove mettiamo invece la cucina lassù eh forse qualcosa la dobbiamo mettere anche qua per esempio la camera da letto io la metto qua ecco io dormo qua io dormo qua poi vedete ce ne compriamo una più grande no questa casa va benissimo poi qui vedete ci sono delle scale se uno per esempio ha voglia anche di fare le scale di buttarsi dal tetto ah lo può fare e poi ma non c'è il tetto tu continui a fare le cose ma non c'è il tetto vabbè intendevo qui dal 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 ecco qua e poi per scendere per uscire si fa lo scivolo aspettate cadi no non sono caduta stavo solo controllando come era fatto il pavimento e poi si scivola e poi qui c'è la mia bella bicicletta no è mia no è mia allora io ho trovato ecco appunto eccomi qui a bordo della mia bicicletta molto bella sicura pratica veramente sicura mamma vieni guarda cos'ho arrivo un attimo guarda cos'ho cos'hai ah aiuto cos'è cos'è quello la bomba che c'era i diamanti la bomba come bomba avrete che la vorrete accendere ma chi è questa invece vai via vattene via sono esplosa lo stesso guarda i diamanti diamanti è vero li ha rilasciati davvero è mio no è mio è mio ci devo comprare i mobili ci devo ricomprare i capelli questa volta quella rana mi ha davvero fatto arrabbiare adesso vedrò ridammi quel diamante ci servono i mobili per la casa dammelo subito ok quale mobile compriamo? il freezer già comprato perfetto era proprio quello che volevo infatti ok bene sono tornata a normale adesso non infilarti nel freezer dobbiamo sistemare qui nella nostra grandissima e spaziosissima casa ecco lo porto dentro vieni qui allora aiutami è pesante ecco spingilo dentro ok ecco qua l'ho messo qui ti piace come è posto? sì comunque io ho qua un altro diamante e lo voglio spendere cosa comprerà? mamma guarda cosa ha comprato che cosa? un gatto un gatto così lo posso cavalcare ma smetti di cavalcare ai nostri animali sei un animale vai io non sono un animale io non sono un animale per farmi stare beh effettivamente se ho fatto una figlia rana qualcosa di strano ce l'avrò anche io ecco sopra il freezer sarà la cuccia del gatto visto che c'è lo spazio per tutto in questa casa proprio tutto eh si sta belli larghi adesso ci mettiamo anche il cavallo in casa ahhh verso l'inferito il gatto allora ragazzi vi è piaciuto l'home tour della nostra mega casa grazie perché c'è la bicicletta qui dentro aiuto questa rana quant'è di so io la chiudo dentro no non facciamola uscire teniamola chiusa ecco speriamo che il tour nella nostra casetta vi sia piaciuto io e la rana pazza vi salutiamo e ci vediamo un prossimo video ovviamente con noi protagonisti ciao ciao aspetta che ti trovo ahhh 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 Grazie a tutti.